salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video a breve cioè il 20 febbraio verranno presentati i nuovi telefoni top di gamma di samsung l'S10 e l'S10 plus ma già in rete ormai si trovano diciamo la versione definitiva del prodotto cioè quello che poi verrà presentato meglio quello che al 99 per cento sarà il prodotto presentato il 20 febbraio cosa di particolare questo nuovo smartphone di casa samsung ovviamente dopo il più o meno flop dell'S9 perché l'S9 diciamo dal punto di vista delle vendite è stato abbastanza un flop forse perché troppo simile all'S8 forse perché nel mondo android comunque c'è molta concorrenza al giorno d'oggi a huawei honor one plus cioè chi più ne ha più ne metta quindi essendoci adesso una concorrenza veramente spietata nel mondo android samsung ha pagato secondo me il fatto di non avere innovato il telefono dall'S8 all'S9 o meglio non averlo innovato in maniera concreta quindi sono innovazioni diciamo non importanti o non rilevanti per l'utente quindi che è successo che samsung ha visto calare le vendite nel suo top di gamma questa volta probabilmente ci riprova ovviamente come tutti gli anni forse stavolta dando un qualcosa di nuovo all'utente o meglio di nuovo per samsung quindi adesso andiamo a vederli da vicino e analizziamoli insieme ecco ragazzi i telefoni sono questi vedete che adesso vabbè sono due telefoni ovviamente c'è l'S10 e l'S10 plus ragazzi vedete che adesso è veramente un full display nel senso che non c'è più la banda nera né sopra né sotto adesso veramente è un full display vedete che la cosa interessante sono le fotocamere che adesso nel caso della versione diciamo normale tra virgolette o meglio dalle dimensioni normali o standard chiamatelo come volete abbiamo questo pallino nero che è la fotocamera ovviamente mentre nella versione plus il pallino nero è un po più grande è come se fossero due pallini neri attaccati insieme perché le fotocamere sono due quelle anteriori nel caso del plus però veramente il vedere il display tutto intero con solo questi due pallini è un'altra cosa affascinante o meglio sulle cose che adesso ci entusiasmo a vedere nei nuovi telefoni perché ormai di veramente innovativo non c'è praticamente più niente quindi ci entusiasmiamo a vedere queste cose o meglio come riescono a ridurre quella fotocamera all'interno del display andiamo avanti con le immagini ecco ragazzi vedete sotto il mantiene il jack da tre e mezzo cioè mantiene il jack da tre millimetri e mezzo quello diciamo per attaccare le cuffie quello che ormai tutti sono andati a eliminare ovviamente la prima era stata apple ma poi l'hanno seguito praticamente tutti samsung invece sembra che continui con a mantenere questo jack che può essere un bene un male non lo so nel senso che secondo me se c'è male non fa non so gli altri l'hanno eliminato tutti dicendo che almeno sia più spazio per alloggiare meglio i componenti all'interno cioè tutte quelle storie lì poi non so se è solo per quello se c'è anche delle altre storie di marketing però è di fatto che samsung lo mantiene secondo me questo non è un male averlo è una cosa in più e va bene andiamo avanti con le immagini ecco ragazzi i due telefoni dietro hanno la fotocamera tripla adesso praticamente non avendo più niente da inventare nei telefoni la gara è chi riesce a montare più fotocamere diciamo nel retro del telefono samsung ne monta tre o meglio ne andrà a montare si suppone ma diciamo al 99 per cento sarà così tre fotocamere sul dietro del telefono quindi in teoria questo telefono dovrà fare veramente delle foto eccezionali in qualsiasi condizione o meglio dovrebbe essere così perché ormai la gara è a quante fotocamere si riescono a montare dietro al telefono ormai essendoci più un cavolo da inventare di nuovo meglio allo stato attuale nessuno sta più inventando cose veramente da lasciare a bocca aperta chi acquista un telefono adesso la gara è alle fotocamere quindi tre fotocamere sia per la versione tra virgolette normale come dimensione che nella versione plus quindi ragazzi il 20 febbraio verrà presentato questo telefono dal punto di vista hardware non si conoscono ancora bene le caratteristiche o meglio sono un po troppo campate in aria secondo me per parlare di qualcosa che realmente non si sa quindi anche perché poi ragazzi quello che interessa la gente o meglio alla maggior parte degli utenti è l'estetica la fotocamera ormai il display se full display o full display con la tacca senza tacca tutte queste cose qua ormai tutto gira intorno a queste cose una cosa che sembra che non abbia anche diciamo questo top di gamma di casa samsung è la compatibilità con la rete 5g sembra che anche loro aspettino il diciamo il 2020 per lanciare un prodotto compatibile con il 5g ecco queste cose sono diciamo il triplo fotocamera l'assenza del 5g il jack e delle cuffie ancora presente full display con la telecamerina singola per la versione di dimensione standard e la versione plus con la doppia fotocamerina queste diciamo sono le caratteristiche quasi certe al 99 per cento diciamo di come sarà il telefono presentato il 20 febbraio quindi ragazzi spero che queste news che vi ho dato vi siano piaciute vi siano interessate quindi ragazzi lasciate se il video vi è piaciuto un grosso pollice su iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo ragazzi nei prossimi video ciao ciao